Salve a tutti! Siamo Scherz e Scherz. Oggi siamo in un viaggio molto splendido perché finalmente, grazie al suo aiuto, ho trovato una nuova offerta per comprarmi una Switch dopo che avevo distrutto per sbaglio l'altra. Già, e di come? Perché non se la ricordasse? Perché non se la ricordasse? Per sbaglio avevo messo una bottiglia che aveva un buco nello zaino con la la Switch era senza nessuna cover e quindi è entrato tutto il succo dentro il buco per caricare e così si è tutto ossidato, erano tutti i componenti dentro, verdi, tutto un disastro insomma. Non si poteva riparare, non si poteva fare niente. Quindi tra un paio di ore avrò una nuova Switch, usata. Usata ma in ottime condizioni. Speriamo. Speriamo. Sempre che accettiamo l'offerta. Spero di non avere la mano sul microfono. Mi metteremo i sottotitoli in caso. O forse non metteremo il video. ci vediamo. Sono il treno. Ed eccoci qui. Mascherate le mani. Attenzione. Siamo pronti per andare a prendere. Alla Switch. Ciao. Bene. Noi siamo arrivate e aspettiamo il ragazzo che ci vende la Switch. Va bene. Che le vende la Switch. Ora battagliamo. Finalmente. Finalmente è questo momento. Speriamo che arrivi. È arrivato. Il momento. Ah. Bene. Dopo circa due secondi e mezzo abbiamo controllato la Switch. Senza graffi né niente. Nuova di pacca. È perfetta. Si accende e i tasti dovrebbero funzionare. Non li ho controllati ma... E abbiamo la Switch. Bene. E ora andiamo a fare colazione. E ora una colazione. Per riprendere le forze. Guardate che cioccolata. Facciamo un uomo. Femina. Fatto. Guardate la semiglianza. È venuta subito giusto. Siamo tornati a casa. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la vostra attenzione. Ci vediamo al prossimo video. Siamo schemi. Let's go.